Perché? Vabbè, attrice che conosciamo tutti, disegnatrice, appassionata dei negozi di carta ma anche della ferramenta appena citata, mi sei tornata in mente perché hai una passione anche per i negozi con le cose strane che dici ma questo cos'è? Sempre per l'effetto sorpresa perché appunto tutte le cose che non capisci e che ti dico, poi chiedi ma questo cos'è? E scopri degli oggetti, ci sono delle cose stranissime e quindi sono affascinata più da quelle che da un negozio d'abbigliamento dove quello è un pantalone, quella è una camicia insomma. È evidente che sia così. Però, nonostante questa passione per ciò che ti stupisce, che è un po' misterioso, sei ancora così impaurita dal cambiamento? Ho letto che quando avevi sei anni piangevi guardando le foto di quando ne avevi cinque, così perché non sopportavi l'idea che fossi cambiata. Avevo le crisi di nostalgia già sei anni, tu pensa, guardavo la foto e dicevo, oddio ma quel tempo non tornerà mai più. Però ho scoperto che è una cosa che hanno molti bambini, non è una cosa così strana, anche mio nipote, o forse in famiglia è così. E voi dici, senti ma adesso è passata quella fase o guardando le foto dell'anno scorso ancora ci piangi su. Allora cosa succede? Che a un certo punto per non soffrire più, cosa fai? Ti distacchi un po', perché sennò sarebbe tutto uno struggimento, non è che si può campare sempre con lo struggimento addosso. Quindi fai finta di dire, ah sì, erano due anni fa, vabbè ma in fondo è come oggi. Ecco adesso cerco quest'altra versione dei fatti, perché sennò starei sempre lì un po' a penare. Quindi mi è passata apparentemente. Apparentemente è passata. Oddio che cosa sta succedendo? Ma con quello sguardo guardi la macchina, sei matto, ma ti pare? Ma no, ma che cosa fai? Non si capisce, è sospettosa questa cosa, non so. Comunque insomma oggi intanto sono che posso cambiare perché appunto il mestiere dell'attore un po' ti permette questo. Oppure non so cosa sta succedendo. Te lo dicono ogni tanto, diciamo, ma è meglio dal vivo che da morta, quello è normale. Ma se avete un consiglio d'amica, cioè se questo è un inizio o un approccio, guarda, riprovaci. No, no, perché troppo non ha funzionato. Per dire una cosa, ma continuate a parlare. Noi continuiamo, lui sospettosamente dietro cammina, non abbiamo capito cosa fa. Si fa cose, installa, non lo so, il palco, fare delle robe. Ma il trasformismo appunto, che è una cosa meravigliosa, cambiare pelle, cambiare un po', no? È anche una cosa di cui parla il film. Ma cosa ci dice il cervello? Ma cosa ci dice il cervello? In fondo dentro si parla anche di trasformazione, nel senso che in realtà la protagonista, Paola Cortellesi, Nelle sale in questi giorni il film di Riccardo Milani, siete davvero in tantissimi, come citava Michele prima. Ma lei, che ha questa straordinaria dote come attrice di trasformazione, no? Di poter essere, eccola qua, di poter essere appunto dalla donna coatta di periferia a qualsiasi altro ruolo, in questo film ha una doppia vita. Quindi è apparentemente una mamma, come abbiamo visto prima, eccetera, una mamma normale, con una sua vita, la figlia, la nonna, che è Carla Signoris, insomma, che gestisce questa vita qua, anche un pochino, se vuoi, mesta come donna, invece nasconde il fatto che è una lavora per i servizi segreti. Lavora per i servizi segreti e sistema delle cose che nel mondo non vanno. Finché incontra noi, che siamo appunto i suoi amici dell'epoca, degli anni 90, ci ritrova, ognuno racconta un po' la sua vicenda, io sono una dottoressa, le mamme dei miei pazienti sono una pediatra, quindi c'ho dei bambini come pazienti, e le mamme sanno sempre tutto, pure loro, hanno letto in internet che però si fa così, così, così. E quindi tutti noi siamo un po', diciamo, subiamo, ognuno nel proprio lavoro, io come medico, l'altro come allenatore di calcio, l'altro come professore, tutti subiamo un po' una specie di arroganza e di saccenza diffusa da internet. E quindi in qualche modo tutti pensano di sapere qualcosa in più dell'altro, c'è una grande diffidenza, no? E quindi questo film, in maniera assolutamente divertente, ironica, eccetera, però coglie una cosa che c'è nell'aria. Io quando ho letto la sceneggiatura ho detto, perca miseria, è proprio così quello che sta succedendo. E quindi Paola, cioè Giovanna, il personaggio, decide di sistemare anche i nostri di guai. Non vi dico come, perché se no, insomma, manca soltanto che faccio il finale, insomma, forse questo lo devo fare, però è l'esale che ci dice il cervello, e tra le cose che ci dice il cervello c'è anche questa, sappiamo tutto, ormai basta che leggiamo più dei dottori. Perché succede? Noi sappiamo qualunque cosa. Cosa di uno che ti dice prendi l'aspirina, sei sicuro? Però l'aspirina è un letto, quindi... Ecco, ecco qua. Mi ho detto che Paola Cortellesi ha cominciato a recitare al Teatro Sette. Ah sì? No, hai anche questa stelletta appuntata sulla tua giacca? Così, tanto per dire una cosa. Senti, a me non c'è dato di sapere cosa sta per accadere, vero? No, però quella valigia è bellissima. Ti piace questa? Sì. Perché questa è la valigia dell'attore, classica. Sì, è proprio la valigia di Chekhov. Me l'hanno prestata. Però so che tu sei un po' appassionata di magia, e allora volevo stupirti con effetti speciali, perché sai, io non solo conduco, non solo faccio l'attore, ma faccio anche... Eh, a questo punto mi faccio da parte io. Siamo tutt'occhi. Guarda, 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 guarda. Eccolo qua. Era un po' forte. Mago Michele. E so quelle cose belle. No, perché voi continuate a istituire, perché io ho apparecchio. Sì, sai, è normale continuare a parlare mentre uno trosspettola è una cosa d'argento. Esatto, così. Puoi venire? Anzi, ti vengo a prendere. Prego. Vabbè, dai, c'è tanta gente. Non è che provo... No, ma figurate. So che sei appassionata, io... Ma un po' mi diletto, così. L'avrò fatto tutte le volte che ho vestito i miei figli, perciò, insomma, quei due volte, come diceva prima Federica Cifola. Questo è un gioco molto, molto interessante e anche molto intelligente. Ogni tanto mi stupisco anche, perché l'ho inventato io. Guarda, è abbastanza difficile. Allora, come potete vedere, anche a casa, e queste sono tre palle, tre palle di colore diverso. Però guarda che cosa magica succede quando io inserisco la prima sfera di colore giallo qua dentro, poi quella di colore azzurro. Dopodiché metto anche quella di colore rosso, faccio un trucco particolarissimo e mescolo. Puoi, da sola puoi introdurre la mano e tirare fuori per me la palla. Guardiamo adesso... Tiro prima però, se no... No, 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 la tiro fuori io. Questa era la palla di colore azzurro che è diventata gialla. Ti aiuto. Questa era la palla di colore gialla. Questa era la gialla. La gialla che diventava rossa e questa per forza di cose era la rossa. Era la rossa. È abbastanza difficile, non so, perché è la prima volta forse che lo provo, però è questo, è un gioco di prestigio. Io dal cilindro, dal cilindro... C'è gente che l'ha fatto molto più velocemente, però... È anche carino questa impasse. Certo. Perché esce fuori un coniglio! Un coniglio, signore e signore. Un coniglio, un coniglio molto bello, che è anche abbastanza bello. Posso dare un bacino a Sonia? Bellissimo. Bellissimo. Sei abbastanza soddisfatta. Però so che tu sei prestiguitrice, e molto più brava invece di me. No, no, molto no. Eh, però ci fai un gioco? Un pochino. Un pochino? No, scherzo. Allora, io mi ero preparata, tu lo sai? Se no non me l'avresti potuto dire. Ho fatto tutta questa cosa qua. Io ho un fazzoletto in tasca. Guarda, l'ho preso da qui, piccolissimo, perché il gioco lo so fare solo con un fazzoletto piccolissimo, quindi lo faccio vedere a tutti i posti, lo faccio vedere anche di qua, come facevi tu. Ma certo è veramente molto piccolo, forse mi sei rotto. Però, vabbè, allora, questo è un fazzoletto, e queste sono due mani. Lo faccio a te. E fino qua. Allora, fino qua ci siamo. Dove lo devo fare? Perché deve esserci una direzione, se no si vede il trucco, capite? Che non c'è il trucco, ovviamente, però. Allora, queste sono due mani, eccetera, eccetera. Io, in velocità, mentre sto parlando con te, mentre parlo con te, lo faccio sparire. Vabbè, diciamo che, secondo me, tutti e due dobbiamo andare un attimo a scuola di magia. Ma proprio di corsa. Da nulla appare un fiore o una rosa per te. Grazie. 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 Mago e gentiluomo, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a Lucia Mascino per essere stata con noi nelle sale al cinema in questi giorni. Ma che ci dice? Ma cosa ci dice il cervello? Ma cosa ci dice il cervello? Ma cosa ci dice? Cosa ci dice il cervello? Adesso io ci ballerei su. Siete pronti? Fai. Le Edera! Le Edera!